I Rolling Stones, la famosa band britannica per eccellenza, avrebbero minacciato di fare causa a Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti d'America, se continua a sfruttare le loro canzoni in qualità di colonna sonora dei rally elettorali. Di ciò ci informa la rivista Rolling Stones stessa, a provocare la reazione della regione del Brock in mese, è stato il fatto che Donald abbia utilizzato la canzone You Can't Always Get What You Want durante un comissio a Tulsa che si è celebrato una settimana di tempo. I Rolling Stones avevano protestato già durante la campagna elettorale del 2016 contro l'utilizzo non autorizzato delle loro canzoni come colonna sonora di un evento di tipo politico. Adesso però la minaccia è arrivata in maniera diretta, secca e dura da parte di Rolling Stones. Grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto da Leandro, il narratore italiano.